Oggi parliamo della storia di una famiglia di Squinzano, qui abbiamo il signor Roberto insieme a sua figlia. Il signor Roberto è vedovo da otto anni e dal 2017 purtroppo non lavora più. Cos'è successo? Niente, io ero sposato felicemente fra mille problemi, però andavo avanti con il mio amore di vita. E poi un 21 di gennaio del 2015 è caduta, si è fratturato il perone e niente, il primo marzo una violentissima trombosi l'ha portata via. E da quel momento è calato il sipario in famiglia? Da quel momento è calato il sipario su me, su parte della mia vita, sui miei figli. Il lavoro è calato. Con il peso che le mamme hanno iniziato a prendere poi diventa difficile fare il bianchino. Come tutti gli altri mestieri, sono andato da vari nutrizionisti, ho iniziato diete che poi prontamente ho abbandonato. Attualmente come riuscite ad andare avanti? Con la pensione delle versibilità di mia moglie. Però con questi soldi non riuscite comunque a far fronte a tutte le bollette? No, perché col taglio della luce che c'è stato, con l'abbassamento, ti aumentano del tanto per cento. Quando arrivano le bollette arrivano mazziate. Tu invece hai 23 anni e hai comunque cercato di dare un contributo in famiglia trovando un lavoro. Ho sempre contribuito anche lavorando pochi giorni, comunque ho sempre portato i soldi a casa aiutando in famiglia. Solo che adesso lavoro non ce n'è perché comunque ti vogliono brava, con l'esperienza. Qual è oggi il vostro appello? Il mio appello oggi è di vivere dignitosamente. Un aiuto? Un aiuto, un qualcosa, qualsiasi cosa. Qualsiasi lavoro per me. Cioè tu cosa vorresti? Io un lavoro, qualsiasi, non importa. Alla fine impariamo, qualsiasi cosa. Io sono diplomata all'alberghiero a Brindisi, però se non c'è quello c'è altro, l'importante è che si lavora. Poi ci potrebbe essere una soluzione alla sua obesità, ossia un intervento. Un intervento che dovrebbe essere eseguito a Bergamo, però per farlo ci vogliono soldi. Ci vogliono soldi. La sua richiesta anche d'aiuto? Sì, anche questo. Se non lo faccio, non so come va a finire, la dieta non basta.